Gentili spettatori di Fiumicino Online, siamo qui oggi per assistere all'incontro tra il sindaco e alcuni dei proprietari degli stabilimenti di Freggiane più colpiti dal fenomeno dell'erosione. Andiamo a vedere di cosa parleranno. Luca, cosa ti aspetti da questo incontro? È la prima volta che si fanno vedere? Dicci qualcosa. Allora no, si sono fatti vedere negli ultimi dieci anni quasi sempre, perché probabilmente devono prendere la diaria per venire qua a fare i controlli e queste cose qua. Cosa mi aspetto? Assolutamente niente, perché ormai l'affidabilità che hanno le amministrazioni è pari a zero. Oggi le riunioni che sono state fatte sono state fatte un po' così, a burlarci dei nostri problemi e delle nostre difficoltà, perché per aprire un pezzo di spiaggia, un canaletto che ci potrebbe aiutare, parlano dei 100.000, 120.000 euro. Parlano di 4 milioni da spendere dal 2017 per progetti ipotetici che ancora non ci stanno sul tavolo e dovranno essere presentati. E la linea è quella del pezzettino di Scogli qua soffolta davanti, ovvero spostare l'erosione da Freggiane Sud a Freggiane Nord, poi a Maccarese e via dicendo. Quindi la prospettiva è drammatica. Oggi se riuniscono, io però di quello che vi posso dire in dieci anni di quello che ho visto, vengono quando ci sono i disastri, se fanno le foto, se fanno belli, ma tutto rimane invariato. Qui ci stanno macerie ovunque, sono dieci anni che c'è questo grave problema e io non so proprio come possano pensare di risolverlo. Voi vi fate carico economico di tutti i danni che il mare provoca ai vostri stabilimenti? Noi ci facciamo carico dei danni che subiamo da parte dell'erosione, delle macerie, della spiaggia che non c'è più, delle strutture che si distruggono, la clientela che non c'è più. Io sabato apro, io penso che una famiglia normale che viene a trovarmi scappa perché vede decine di macerie e distruzione ovunque. Questa non è più Freggiane, questa è Beriut. Basta girarsi e vedere roulotte di zingari. Siamo nell'abbandono più totale. Qui non gliene frega niente a nessuno. O ci stanno dei discorsi politici dietro, molto più grandi di noi, oppure vogliono che questa zona muoia, definitivamente. Quindi la stagione estiva è decisamente compromessa per il 2016? Noi stiamo pensando di chiudere o trasferirci. Io ho presentato al Comune la possibilità di un ricollocamento, visto che insegniamo a 400 bambini l'anno la cultura del mare, facciamo anche qualcosa di sociale, ma anche da parte del Comune non c'è stata mai una risposta. Abbandonati. La situazione è abbastanza disperata. Il fenomeno però si sta allargando perché mentre un mese fa era concentrato su questo luogo specifico, adesso questo luogo naturalmente ha avuto un impatto questi giorni con la mareggiata ancora più grave, però ha preso un pezzo di costa molto più ampio. Tra l'altro verso l'area naturalistica di Macchia Grande ormai è scomparsa completamente la duna, metà duna se n'è andata, c'è l'unificazione tra il mare e il canale che invece c'era circa 100 metri di duna che è stata completamente portata via e man mano si estende verso Fregene Centro. Ora è evidente che ci sono una serie di fenomeni, una serie di fattori che vanno al di là di fatti locali, riscaldamento, tutte queste cose diciamo più generali. Però non c'è dubbio che bisogna fare presto e fare degli interventi abbastanza rapidi. Devo dire che ci siamo sentiti ieri con l'assessore Refrigeri e Refrigeri immediatamente si è reso assolutamente disponibile per fare un sopra luogo questa mattina per vedere direttamente come stanno le cose. Questo mi sembra un bel gesto. Spero che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, abbiamo un impegno anche concreto, fatto di scadenze, fatto di cronoprogramma, fatto anche di finanziamenti per arrivare a mettere mano a un problema che comunque rimane difficile. Io tengo a rimarcare anche il fatto, come ha ricordato il Sindaco e lo ringrazio, della tempestività di questa giornata. Tempestività derivante dal fatto, uno, della priorità assoluta. Ne siamo convinti, conoscevamo il problema, lo stiamo affrontando da un po' di tempo, anche con interlocuzione con alcuni imprenditori, con l'amministrazione che ci sollecita, devo dire, spesso per una soluzione che sia un duplice binario, cioè una soluzione che consenta di operare nell'emergenza, anche nei periodi ovviamente estivi, ma che sia anche un elemento di investimento, di spesa, di risorse pubbliche che però producano effetti anche nel tempo, perché quello che vediamo è un tema di carattere epocale nella sua dimensione, ma va affrontato anche con strumenti straordinari. Noi su questo stiamo valutando, anche grazie ai consigli che abbiamo ricepito, e fatto anche modalità nuove. Per esempio stiamo valutando la presenza di un geotessuto, che potrebbe consentire di non realizzare pennelli, cioè un irrigidimento della costa, che anche sul livello estetico potrebbe impedire alcune attività sulla medesima, e quindi stiamo cercando di trovare anche soluzioni importanti. Noi abbiamo previsto, per tutti gli interventi del Lazio, stiamo lavorando intorno a una cifra importante di quasi 8 milioni, di cui la metà è, nelle nostre intenzioni, destinata alla copertura di questo intervento. È un intervento più consistente, noi dalla prossima settimana convocheremo una conferenza di servizi, d'accordo con il Sindaco, presso i nostri uffici e inizieremo a tracciare in maniera molto netta quelle che sono le cose da fare per un intervento che abbia però queste caratteristiche, una caratteristica di durata e di salvaguardia di un luogo meraviglioso, perché chi l'ha visto qualche anno fa, vederlo oggi, in qualche maniera ti fa rendere conto anche della mutazione profonda che sta subendo. Quindi noi vogliamo preservare questo tratto di costa con un ripascimento intelligente e anche dare la possibilità agli operatori del settore che per tanti anni hanno sviluppato un'economia in questi luoghi di poter continuare a farlo. Noi siamo sulla finale della chiusura della modalità progettuale e inizio durante il 2016 di questi lavori, lavori di lunga durata. Poi sui lavori, come raccontava il Sindaco, che ci possano consentire soluzioni per il periodo estivo, siamo disponibili come siamo stati lo scorso anno. Però è chiaro che a noi interessa, lo dico francamente, c'è un impiego di risorse che sia il più duraturo possibile e che dia risposte il più definitivo possibile. Per non ritrovarci qui magari tra un anno con tutti voi e cominciare a vedere che magari un altro pezzo di questo pezzo editorale non c'è più. Quindi credo che sia nostro dovere impiegare bene i risorsi in un tempo difficile, dove tutti sappiamo le difficoltà economiche del paese e della regione, ma su questo oggi siamo venuti anche qui per testimoniare non solo la presenza, ma anche il fatto che siamo pronti in maniera coerente e oculata a poter fare un investimento su questa parte del territorio. Oggi però ho motivo di ritenere che questo sia uno degli interventi su quali intendiamo partire in maniera prioritaria, come vi ho già detto, perché credo che qui il problema, non che sia maggiore di altro, ma ha una dimensione, anche una consistenza di difficoltà che non ci lascia altri tempi per tentare un intervento di carattere strutturale. Abbiamo sentito che cosa hanno detto il sindaco Esterino Montino e l'assessore Refrigeri. Degli interventi sono assolutamente necessari e stanno valutando su come agire. Come potete vedere lo scenario è catastrofico e un intervento tempestivo alle soglie dell'estate stagione 2016 è più che necessario. Da Fiumicino Online è tutto, vi ringraziamo e vi invitiamo come al solito a dire la vostra sulla nostra pagina Facebook e a visitare il nostro sito.